Allora, siamo con Sara Segantin, ospite di Circonomia, e le chiediamo sul tema ambientale che cosa possono ancora fare i cittadini per invertire la rotta. Tutto, perché noi siamo mondo, noi siamo politica, informandoci, votando, facendo sentire che siamo protagonisti del nostro oggi, ma anche con le scelte di ogni giorno, dall'alimentazione alla mobilità, all'edilizia e ovviamente all'energia che un po' tutte le comprende e le riguarda, essendoci.